Forza Italia si riorganizza in vista delle prossime regionali e sarà guidata dal deputato Antonio Martino. Diventa infatti segretario organizzativo regionale in collaborazione col coordinatore regionale, il senatore Nazario Pagano. Martino prende il posto di Stefano Morelli, che per due anni è stato il commissario del coordinamento comunale. Martino ha ringraziato Morelli per il lavoro svolto in questi anni, ha detto in una nota. Sotto la sua guida Forza Italia all'Aquila ha vinto le elezioni comunali, ricorda Martino, facendo in modo che la lista risultasse la più votata del centro-destra e alle elezioni politiche ha fatto sì che il movimento politico prendesse oltre il 19% in città, dato ben al di sopra della media nazionale del 4 marzo. Forza Italia avrà modo, ha stabilito Martino, di avvalersi delle sue capacità e della sua professionalità in altri modi, politici e amministrativi. La decisione del cambio al vertice del partito aquilano arriva in un momento molto delicato. Il vice sindaco Guido Liris potrebbe infatti rompere con gli azzurri passando a Fratelli d'Italia e con lui potrebbero andare via anche l'assessore di Cosimo, il sindaco di Navelli Paolo Federico e anche altri esponenti di Forza Italia.